Pietro Sicignano, giocatore del Termoli, 1-1 con il Vasto Girardi, un derby che si è risultato essere pari come il risultato, c'è stata parità anche nel gioco. Tu ti do del tu Pietro, hai dato via all'azione che poi è stata l'azione del gol del pareggio. Sì, siamo venuti qua a consapevole di incontrare una squadra ben organizzata, purtroppo noi cerchiamo questa vittoria da qualche partita, ma obiettivamente anche un punto qua è un punto importante che muove sempre la classifica. Lì sul gol ho avuto l'intuizione di non calciare la palla avanti ma di muoverla ed è stato bravo Ciofi a mettere questa palla bene in mezzo e abbiamo fatto gol. Poi dopo sinceramente abbiamo rischiato poco e niente e abbiamo avuto noi con le due mezzo occasioni per poter andare in vantaggio che però non abbiamo sfruttato. È un gol che vi ha rinvigorito quando si è ripartiti, quando si è rientrati dall'intervallo, il Termoli sembrava, almeno per quei primi minuti, di dominare sul campo del Vasto Girardi. Sì, è stato cercato e ci ha dato quella forza dopo il loro gol e l'azione dopo che hanno sbagliato un gol, quello del 2-0 sarebbe stato del 2-0, ci ha dato quella forza di poter affrontare di nuovo la partita come l'avevamo preparata in settimana e quindi ben venga. Cosa è mancato nel secondo tempo? Ripeto, abbiamo avuto quelle due mezzo occasioni dove potevamo sicuramente fare meglio e non abbiamo concesso niente, quindi è mancato un po' di cattiveria, ma non è solo sottoporta, è un po' di cattiveria generale perché alla fine in una partita ti capitano quelle due mezzo occasioni e bisogna sfruttarle.